Buon pomeriggio, ritorniamo puntualissimi anche questa settimana con Spazio Salute. In questa puntata vi parliamo di tumori al cervello, che cosa sono, quante tipologie ne esistono, cause, fattori di rischio e ovviamente trattamento e cura. Ne parliamo in compagnia del primario di neurochirurgia di casa Soglievo della Sofferenza, il dottor Leonardo Gorgoglione. Benvenuto. Grazie per essere qui. L'argomento è particolarmente complesso e delicato, per cui noi affidiamo a lei anche il compito di spiegarci in questo poco tempo che ci accompagna di che cosa stiamo parlando. Partiamo come sempre dalla definizione. Che cosa sono i tumori del cervello? Sì, i tumori sono delle patologie che purtroppo affliggono la nostra era e non sempre sono curabili. È una sfida che puntualmente noi abbiamo con questo tipo di patologia. Per quanto riguarda i tumori cerebrali, sono delle patologie particolari perché è particolare la scatola cranica, che ha un contenuto ben stabilito, che è quello del cervello e non permette ulteriori crescite. Quindi, siccome il tumore è una crescita di cellule, quindi cellule che si espandono all'interno di una scatola chiusa come quella del nostro cranio, possono crearci dei problemi. Sia dal punto di vista di pressione che questa massa produce sul cervello, sia i sintomi che in alcune aree possono essere evidenziati. Il tumore è comunque una patologia, come dire, non diversa, il tumore cerebrale non diversa da altre patologie, è la sede che la fa particolare. E la sede che ovviamente diventa tutto più complesso. Certo, diventa complesso perché anche il tumore benigno può produrre dei danni che in altre sedi non ha. Un tumore anche benigno, crescendo in una struttura chiusa, può creare dei problemi. Ecco, quindi non tutti i tumori del cervello sono maligni. Ci sono anche tumori benigni. Assolutamente no. Il meningioma è uno dei tumori più frequenti del cervello ed è un tumore extra-parenchimale, cioè un tumore che non coinvolge direttamente il cervello, ma è un tumore che cresce all'esterno della scatola cranica, all'esterno del cervello, sotto la teca cranica, che comunque produce un danno perché produce una pressione incredibile sul parenchima cerebrale e quindi dà dei sintomi. I sintomi quali sono? I sintomi sono legati alla sede del tumore. Ci sono sintomi legati a un tumore frontale, per esempio, ci sono sintomi di perdita di controllo, di autocontrollo, oppure sintomi legati a una paresi, per esempio, che crescono in una struttura dove chiaramente c'è un danno motorio perché ci sono coinvolte le fibre che portano la motilità agli arti, oppure può essere, per esempio, la vista. Un tumore che cresce in una zona occipitale può creare problemi alla vista, quindi il problema è legato alla sede del tumore. Questi comunque sono tutti campanelli d'allarme che devono in qualche modo metterci in guardia. Tra i campanelli d'allarme c'è anche, per esempio, l'epilessia, che è uno dei sintomi, non è dovuto direttamente alla pressione, ma è dovuto all'irritazione che il tumore fa sul tessuto cerebrale. L'irritazione porta a un aumento dell'elettricità del cervello e quindi all'epilessia. Quindi, diciamo, a parte i sintomi che possono essere cefalea generica, perché chiaramente la cefalea è un sintomo molto generico, ci sono sintomi specifici che sono soprattutto l'epilessia, ma anche i sintomi focali, si chiamano, cioè i sintomi legati al focus interessato nel cervello. Quali sono le cause, dottor Gorgoglione? Ci sono dei fattori di rischio, dei soggetti a rischio? Perché a un certo punto... C'è un tumore. Immagino che siano un po' anche le cause generali, comuni, diciamo... Certo, certo. A un certo punto una cellula impazzisce, c'è un danno del DNA di questa cellula, c'è una replicazione fuori controllo e quindi c'è una crescita. Chiaramente l'espressione di questa cellula è l'espressione del tumore. Ci sono tumori che crescono, aumentano le cellule, ma non infiltrano il tessuto sano. Ci sono cellule impazzite che crescono in modo molto vertiginoso e incontrollato, infiltrano il tessuto sano, quindi il cervello sano, e danno dei danni molto molto più seri e gravi, soprattutto con difficoltà di trattamento e di terapia. Ci sono ovviamente trattamenti e terapie anche in questi casi, ovviamente il trattamento chirurgico è il trattamento per eccellenza. Assolutamente sì, diciamo la chirurgia è il trattamento delle lezioni e tutti i tumori cerebrali, sia benigni sia maligni. Nel caso del tumore benigno il trattamento chirurgico può essere conclusivo, nel senso dopo la chirurgia risolutivo. Il paziente può guarire, ci può essere una recidiva, ma in genere il tumore benigno rimane benigno. Nel caso del tumore maligno il tumore viene asportato, viene ridotto come quantitativo di cellule, c'è una cellula però che comunque sfugge, questo è il motivo della malignità, si replica e va a infiltrare il tessuto sano. Chiaramente anche nel caso di tumori all'interno del cervello esistono tumori benigni, per esempio negli astrocitomi ci sono vari varianti, c'è l'astrocitoma pirocitico, il primo grado, c'è quello molto maligno, il quarto grado, che è il glioblastoma, di cui magari forse... Di cui parleremo certamente. Quindi diciamo un po' il tipo di trattamento è determinato dall'istologia, dalla patologia proprio del tumore. Un tumore benigno, anche se intracerebrale, cioè un tumore astrocitario, cioè del cervello, bisogna perseguirlo fino a toglierlo tutto nella possibilità di guarire il paziente. Anche nella chirurgia, nel trattamento chirurgico, ci sono nuove tecniche, ci sono sempre appunto passi in avanti. Stiamo parlando della chirurgia, dei trattamenti chirurgici mini-invasivi. A spiegarci nello specifico di cosa si tratta è il dottor Domenico Catapano, neurochirurgo in Casa Sollevo della Sofferenza. Ascoltiamolo. Per neurochirurgia minimamente invasiva intendiamo mettere in pratica tutti quegli tecniche ed ausili tecnologici che ci consentano di ridurre al minimo il traumatismo nel trattare lesioni in aree cerebrali profonde e o comunque eloquenti, quelle del movimento, del linguaggio, delle funzioni e abilità cognitive, laddove può esservi un elevato rischio di determinare con l'intervento in sé dei nuovi deficit neurologici oppure anche nel trattamento di ridurre al minimo il traumatismo legato all'intervento in caso laddove dovessero essere previsti dei trattamenti particolarmente destruenti. A seconda delle necessità del caso da trattare nella nostra pratica clinica utilizziamo monitoraggi neurofisiologici intraoperatori per il trattamento di lesioni in prossimità o all'interno di aree motorie neurochirurgia da sveglio nel caso di lesioni in aree motorie ad esseri mitrofe o per testare altre abilità interagendo col paziente appunto che sveglie durante l'intervento chirurgico oppure sistemi di guida e visualizzazione intraoperatori quali possono essere l'ecografo o il neuronavigatore o sistemi di visualizzazione per magnificare e amplificare la visione quali possono essere il microscopio operatorio o l'endoscopio operatorio. Il sistema di neuronavigazione funziona come ausilio o come sistema di guida dobbiamo immaginarlo un po' come il GPS che utilizziamo nella nostra pratica nella nostra vita quotidiana sul telefonino o nell'automobile laddove però nel nostro sistema di navigazione le mappe sono costituite dalle immagini tacco o risonanza magnetica del paziente. La neuroendoscopia è un sistema di visualizzazione fondamentalmente intraoperatorio in cui introduciamo una telecamerina di pochi millimetri di diametro variabile tra i 4 e i 7 all'interno del cranio, all'interno dell'encefalo o attraverso il naso alla base del cranio ci consente quindi una visualizzazione molto ampia ravvicinata e dettagliata della situazione anatomica che vogliamo visualizzare e quindi trattare. Il neuroendoscopio e il neuronavigatore possono coesistere nella stessa pratica sono di ausilio l'uno all'altro consentendoci di ridurre in tante situazioni il traumatismo e i possibili rischi legati al trattamento chirurgico ma nel contempo cercando di massimizzare il risultato stesso dell'intervento. Ringraziamo il dottor Catavano per averci appunto spiegato l'utilizzo del neuroendoscopio e del neuronavigatore due tecniche appunto di chirurgia mini-invasiva dottor Gorgoglione si possono utilizzare sempre o ci sono soltanto alcuni casi in cui è possibile ricorrere a queste tecniche? Allora il neuronavigatore noi lo utilizziamo tantissimo quanto il tumore profondo al di sotto della corteccia cerebrale perché è un tumore che noi non vediamo nell'apertura del cervello per cui lo utilizziamo per dirigerci direttamente senza grossi danni direttamente sul tumore soprattutto nei casi in cui il tumore è profondo, piccolo e difficile da raggiungere per l'endoscopio l'asportazione dei tumori per via endoscopica è possibile laddove il tumore affiora nelle cavità naturali che sono i ventricoli quando c'è un tumore intraventricolare o un tumore comunque che affaccia getta all'interno di queste cavità naturali del cervello noi possiamo rimuoverlo anche per via endoscopica quindi dipende dalla posizione dipende dalla posizione del tumore chiaramente noi abbiamo soltanto un minuto che ci separa dall'interruzione pubblicitaria e vorrei dedicarlo a questo partendo dalla cronaca c'è stata una recente sentenza della corte d'appello di Torino che ha disposto il risarcimento per un ex dipendente telecom che aveva appunto era stato colpito da neurinoma del nervo acustico considerando quindi un nesso di causa-effetto sappiamo però che finora la scienza appunto non ci ha dato prove di correlazione tra l'uso del telefono e tumori al cervello in realtà non ci ha dato questa sicurezza ci sono vari studi ma nessuno diciamo ci ha detto inequivocabilmente che il tumore al cervello può essere prodotto dal telefonino e tra l'altro in questo caso non è corretto parlare di tumore al cervello no no è corretto come tumore perché il neurinoma dell'acustico è un tumore del nervo non del cervello va nel cervello aggetta nel cervello dà pressione sul cervello però è un tumore del nervo in realtà c'è stata un po' una mistificazione di questo caso giudiziario perché in realtà il neurinoma è un tumore del nervo acustico del nervo acustico ecco essendo questo paziente un dipendente telecom quindi con l'utilizzo costante giornaliero del telefono hanno potuto dal punto di vista giudiziario dimostrare una cosa un nesso però per quanto riguarda i tumori in generale tumori al cervello l'uso del telefono in realtà non è chiaro e non è dimostrato c'è l'ipotesi di alcuni gliomi soprattutto quelli nella zona media del cervello diciamo dove si è visto un aumento un incremento in realtà noi lo attribuiamo all'uso del telefonino nel nostro periodo nella nostra epoca in realtà oggi abbiamo molte più possibilità di diagnosi abbiamo la risonanza abbiamo l'attacca che prima non c'erano quindi sicuramente secondo me è più le diagnosi sono legate più alla specificità nel poterlo capire chiaro è chiarissimo noi ci fermiamo solo qualche istante per una breve interruzione pubblicitaria e poi ritorniamo ancora qui sempre per parlare di tumori del cervello in particolare parleremo del glioblastoma che è quello più aggressivo a fra poco e ritorniamo come promesso dopo questa brevissima interruzione siamo in compagnia del dottor Leonardo Gorgoglione primario di neurochirurgia in casa sollievo della sofferenza stiamo parlando di tumori del cervello abbiamo dedicato la prima parte anche a capire che cosa sono quali sono le cause come si si manifestano la differenza anche tra tumori benigni e tumori maligni perché ovviamente non tutti i tumori del cervello sono maligni diversi sono benigni per cui insomma c'è possibilità di guarigione adesso però affrontiamo quello che diciamo certamente il tumore più aggressivo dal quale non si guarisce parliamo del glioblastoma le aspettative di vita sono molto basse che cos'è il glioblastoma il glioblastoma innanzitutto è uno dei peggiori tumori dell'organismo un tumore molto maligno ed è il più frequente fra i tumori maligni del cervello è un tumore molto aggressivo la sopravvivenza senza possibilità di trattamento cioè ci sono quei tumori che purtroppo non possono essere trattati perché sono in sedi irraggiungibili in sedi critiche quindi in questi pazienti purtroppo la prognosi è molto molto severa meno di un anno sicuramente nel caso invece in cui il paziente può essere trattato il tumore può essere asportato o comunque in gran parte asportato le possibilità di cura sono la radio e la chemioterapia come terapie ormai consolidate negli anni portano l'aspettativa di vita per questi tumori a circa due anni però stiamo parlando chiaramente di una mediana di sopravvivenza cioè mediamente fra il peggiore e il migliore c'è una mediana di sopravvivenza di due anni però ci sono anche lunghi sopravviventi cioè pazienti che hanno una sopravvivenza anche di quattro anni di tre anni insomma le nuove terapie per fortuna ci danno speranza nel futuro e questo chiaramente è dovuto in gran parte alla ricerca oltre che alle tecniche alle migliorate tecniche chirurgiche capiremo anche in questo caso per questa patologia davvero il fondamentale ruolo della ricerca in generale nella medicina poi insomma capiremo anche quanto poi questi progetti di ricerca si spera che possano fare la differenza poi insomma in futuro nel trattamento di queste patologie ma quanto è diffuso il glioblastoma il glioblastoma è un tumore raro tutto sommato non bisogna spendarsi perché voglio dire i tumori più frequenti sono mammela polmone stomaco ci sono altri tumori fra i tumori maligni il glioblastoma comunque fa parte di una piccola fetta di tumore cioè sicuramente è un tumore raro diciamo è frequente nell'ambito neurochirurgico ma nella popolazione rimane comunque un tumore abbastanza raro però ripeto è fra i maligni quello più diffuso e che sintomi dà i sintomi sono comuni agli altri tumori del cervello cioè irritazioni cioè epilessia sindomi focali sindomi legati alla sede quindi non so emiparesi afasia cioè disturbo del linguaggio può si può insorgere con un disturbo visivo ipertensione entocranica perché il tumore cresce rapidamente all'interno di una scatola chiusa come dicevo prima per cui può dare aumento della pressione e la cosiddetta ipertensione entocranica che si manifesta con vomito cefalea e altri disturbi della coscienza insomma anche qui ci sono dei soggetti a rischio delle cause o anche per questo tumore sono quelle comuni si sono quelle comuni in realtà diciamo sono le solite cause dei tumori irradiazioni danno diciamo biologico un danno chiaramente al DNA che produce un disturbo della replicazione cellulare insomma le cause dei tumori sono comuni non c'è una particolarità nel caso dei tumori cerebrani lei ha fatto accenno alla ricerca e anche in questo Casa Soglievo è in prima linea con l'istituto di ricerca Isbremit e ascoltiamo adesso le parole della dottoressa Elena Binda ricercatrice proprio in Casa Soglievo della sofferenza all'Isbremit che è alla guida di un progetto di ricerca proprio sul glioblastoma progetto che è tra altri progetti finanziati dall'AIRC allora ascoltiamo la dottoressa Binda quando parliamo di tumori cerebrali umani dobbiamo sapere che il glioblastoma è la forma più rappresentata in particolar modo il glioma di quarto grado comunemente definito glioblastoma multiforme rende conto del 30% di tutta la casistica con però un'incidenza in continuo e preoccupante aumento parliamo di una neoplasia caratterizzata dalla presenza di cellule con un alto tasso di proliferazione e di invasività ad oggi parliamo di una neoplasia di una malattia orfana nonostante i notevoli progressi compiuti in campo neurochirurgico e farmacologico si stima che il tempo medio di sopravvivenza dal momento della diagnosi è di circa un anno nei primi anni del 2000 nei laboratori di Milano noi abbiamo chiarito il ruolo chiave svolto dalle cellule staminali tumorali all'interno di questa neoplasia abbiamo visto che nonostante la massa tumorale sia composta da miliardi di cellule eterogenee in realtà solo la sottopopolazione di cellule staminali tumorali che rende conto più o meno del 2-4% è in grado di innescare i fenomeni di inizio e di mantenimento della massa tumorale nonché della progressione ma soprattutto della recidiva che si presenta pur a seguito di trattamenti farmacologici per cui ci è apparso chiaro che per avere chance di poter delineare una terapia innovativa che sia efficace nel combattere questo tipo di neoplasia mortale occorre non bersagliare con sostanze potenzialmente tossiche l'intera massa tumorale bensì eradicare la sottopopolazione di cellule staminali tumorali questo è il lavoro che svolgiamo nei laboratori del nuovo centro di ricerca ISBREMIT di casa sollievo della sofferenza dove lavoriamo con tessuti freschi postchirurgici isoliamo le relative cellule staminali tumorali e le caratterizziamo a 360 gradi dal punto di vista molecolare e funzionale ne emergono delle peculiarità tipiche di questa sottopopolazione cellulare ma soprattutto tipiche del paziente d'origine a questo punto contro queste peculiarità sviluppiamo molecole biologiche cosiddetti biofarmaci con l'intento di inibire proliferazione o invasività delle cellule staminali ad oggi lavoriamo in laboratorio con molteplici molecole biologiche con una abbiamo appena chiuso con successo un trial clinico di fase 1 svolto con pazienti affetti da recidiva di globlastoma e a breve in tempi molto brevi verrà avviata la successiva fase clinica 2 per un'altra molecola invece è già stata avviata la produzione come si dice in gergo in grado GMP ovvero sia con i requisiti minimi necessari per poter essere utilizzata direttamente sul paziente e quindi lo step successivo sarà l'avvio di una fase 1 con pazienti affetti da globlastoma multiforme con un'altra molecola stiamo terminando gli studi di tossicologia preclinici chiaramente l'attività prevede sia studi combinatoriali svolti con biofarmaci e molecole farmacologiche tradizionali e naturalmente il discovery continuo di ulteriori bersagli grazie alla dottoressa Binda noi auguriamo buona ricerca buon lavoro a tutta l'equip dei ricercatori che appunto stanno lavorando a questo progetto e non solo appunto dicevamo che questo è uno dei progetti che sono stati finanziati dall'AIRC perché davvero la ricerca come dire porta il peso di tanta speranza perché come dire nella ricerca poi c'è anche il futuro e dipende anche poi l'aspettativa di vita soprattutto diciamo la buona unione che c'è fra i nostri gruppi quello clinico e quello di ricerca fa la differenza perché ripeto la clinica ha bisogno delle ricerche e viceversa si lavora bene se lavoriamo insieme per una prospettiva migliore su questo tipo di tumori questa è appunto una ricerca sul glioblastoma abbiamo un paio di minuti che ci separano al termine della puntata ci sono comunque nuove terapie anche in generale in campo del trattamento appunto dei tumori del cervello diciamo che la chemioterapia e la radio storicamente sono le due fasi del trattamento post chirurgico i risultati migliorano spesso è legato molte volte gli effetti della chemio e della radioterapia sono legati a una particolare espressione biologica di questo tipo di tumori quindi non tutti i glioblastomi hanno una sopravvivenza pessima ci sono dei glioblastomi che per espressione biochimica biologica che hanno sono più sensibili a questi nuovi farmaci chemioterapici diciamo le porte della ricerca chiaramente indirizzeranno verso nuove terapie nuovi trattamenti come diceva la dottoressa Binta anche a un cambio di strategia di trattamento nella chemioterapia bene grazie dottor Gruglione per essere stato qui con noi per il lavoro che svolgete quotidianamente accanto a queste persone che davvero hanno bisogno del vostro supporto professionale e non solo grazie come sempre a tutti voi per averci seguito in questo spazio noi vi auguriamo un buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV Spazio Salute ritorna come sempre la prossima settimana spazio Salute